La Cucine Lube Civitanova alza il livello in vista del primo test della stagione. Attività gradualmente più intensa nel calendario di questa settimana dei campioni d'Italia, che sabato prossimo saranno protagonisti di un allenamento congiunto casalingo a porte aperte all'Eurosuole Forum con la Mad Store Tunit Macerata, club che milita attualmente nel girone bianco della Serie A3 Credem Banca. Le due squadre inizieranno a riscaldarsi dopo le 16, mentre verso le 16.45-17 i padroni di casa e gli ospiti daranno vita ad un test match. I giocatori di Chico Blengini schiacciano e saltano con maggior vigore per allenare tutti i fondamentali in palestra, alternando la tecnica ai carichi e agli sforzi aerobici, con sortite anche al campo sportivo di Civitanova Marche.